Ciao, buongiorno a tutti. Adesso siamo a Pavia e stiamo per partire a salutare Yolanda Nanni, che è una nostra consigliere regionale della Lombardia, che sta lottando da qualche mese contro un brutto male. La andiamo ad abbracciare a nome di tutto il movimento. Sono con Dario Violi, che è il nostro candidato alla presidenza della regione Lombardia, e stamattina siamo stati a Pane Quotidiano, che è un'associazione laica politica che si occupa di distribuzione di pasti a persone povere che non riescono a acquistare i beni di prima necessità e distribuiscono migliaia di pasti al giorno in una grandissima rete di solidarietà. Sono andate a trovarli perché volevo capire quali fossero i profili delle persone che vanno a ritirare questi pasti la mattina dalle 9 alle 11, è l'orario di apertura. E gli organizzatori mi hanno detto chiaramente che oltre il 70% di chi va a questi banchi alimentari è pensionato. Cioè i poveri di questo paese, i primi poveri di questo paese ormai sono coloro che ricevono una pensione. Stiamo parlando di persone che, mi dicevano gli organizzatori dell'associazione, sono persone che hanno una pensione anche oltre i 500 euro, ma che a Milano col costo della vita, col costo dei beni di prima necessità, non riesce a soddisfare le esigenze di una famiglia che deve arrivare a fine mese. Ed è per questo che torna sempre più attuale il nostro reddito di cittadinanza, che si rivolge prima di tutto ai pensionati. Tenete presente che in Italia ci sono milioni di pensioni, milioni di pensioni sotto la soglia di povertà, che per l'Eurostat è 780 euro al mese. Noi con la nostra legge sul reddito di cittadinanza faremo in modo che una coppia di pensionati potrà avere una pensione oltre i 1.150 euro al mese. Che cosa significa? Significa che restituiremo un po' di dignità ai nonni italiani e soprattutto coloro che con quella pensione non solo soddisfano le proprie esigenze, ma devono a volte anche sostenere i figli disoccupati, i nipoti in difficoltà. Sappiamo bene che il vero grande ammortizzatore sociale di questo paese sono i nonni e sapere che molti di questi nonni, nonostante percepiscano una pensione dopo una vita di lavoro, finiscano ad un banco alimentare di solidarietà dove c'erano dei volontari fantastici, c'era un'organizzazione fantastica in rete con le aziende che donano molti delle loro produzioni, debbano andare lì per sfamarsi. Questo non è da paese civile, soprattutto nella Milano che è la capitale dell'economia, la capitale della finanza, non è assolutamente accettabile. Volevo anche dirvi che noi abbiamo le idee ben chiare su come finanziare il reddito di cittadinanza, non lo finanziamo aumentando le tasse ai cittadini italiani, alle imprese, lo finanziamo tagliando gli sprechi, lo finanziamo facendo una serie a spending review della pubblica amministrazione, lo finanziamo aumentando la tassazione sul gioco d'azzardo che è la più bassa d'Europa, lo finanziamo prendendo i soldi da dove non servono o dove ci sono mancati introiti, come per esempio i concessionari autostradali che pagano pochissimo in tassazione rispetto a quello che incassano. Tutto questo è un progetto di paese che non serve solo a soddisfare i bisogni di 10,5 milioni di italiani in povertà, questi sono i numeri, su 75 milioni di poveri europei 10,5 sono italiani. Non serve solo a soddisfare le esigenze di questa parte di persone che chiamiamo poveri ma come vi ho detto sono pensionati, a volte sono professionisti, a volte sono padri separati, sono tante persone che hanno difficoltà economiche ma che sono il vicino della porta accanto, non il clochard come abbiamo visto tante volte associare questa parola o questi profili ai poveri. Ma servono anche all'economia, questa è una grande misura economica. Ci costa 17 miliardi di Euro, il primo anno ci costa 17 miliardi di Euro, dal secondo già 14 miliardi di Euro, dal terzo comincia a calare perché l'obiettivo è eliminare il reddito di cittadinanza, cioè noi istituiamo un reddito di cittadinanza per aiutare i pensionati ma anche per aiutare tutte quelle persone che non hanno un lavoro a trovare un lavoro, cioè metterli in dei percorsi di formazione lavoro, in dei percorsi di ricollocamento, in dei percorsi di riqualificazione lavoro. Ci sono tanti profili lavorativi che servono e su cui bisogna investire. Stiamo visitando delle aziende dell'industria 4.0 che ci chiedono periti, che ci chiedono tecnici che gli istituti tecnici non stanno più sfornando come prima. Quelle persone lì devono essere formate e per formarle abbiamo bisogno di una ristrutturazione dei centri per l'impiego. La nostra legge sul reddito di cittadinanza aumenterà la domanda interna, permetterà alle imprese di avere più persone che spendono e questo farà crescere l'economia. In generale questa misura noi la portiamo avanti da tanti anni e è un nostro orgoglio, un nostro vanto. Adesso in campagna elettorale tutti quanti stanno iniziando a copiarla. Allora abbiamo visto Gentiloni che ha fatto il REI, ma sappiamo benissimo che quello strumento che doveva essere una sorta di reddito di cittadinanza non ha messo un solo euro in più per le persone in difficoltà, cioè ha tolto dai poveri per dare ai poveri, sempre dalle stesse poste di bilancio e infatti mi dicevano alcuni cittadini che stanno facendo i conti vedendo quali sono i requisiti per accedere a quello strumento, praticamente non lo potrà ottenere quasi nessuno perché si basa su degli isee troppo alti. Poi c'è Berlusconi, fantastico. Berlusconi che ha detto per anni che volevamo fare gli assistenzialisti e i suoi, Brunetta, Romani, tutti a dire basta dobbiamo fermare la legge sul reddito di cittadinanza, è liberale, dobbiamo bloccare le proposte del Movimento 5 Stelle, adesso ieri se ne esce con reddito di dignità. E che cosa fa per giustificare il suo cambio di rotta? Perché sa benissimo che c'è un'esigenza nel Paese, solo che la utilizza strumentalmente in campagna elettorale, manda avanti i suoi giornali. Stamattina abbiamo capito dalle pagine dei suoi giornali vicini a Berlusconi quale fosse la strategia. Lui ha cacciato il reddito di dignità, che è un modo gentile per dire ho copiato il reddito di cittadinanza ma gli cambio nome per non ammettere fino in fondo che l'ho copiato. Poi manda avanti i suoi giornali che dicono la misura del Cavaliere è una misura che costa 17 miliardi di euro, quelli del Movimento 5 Stelle vogliono spendere 80 miliardi di euro. Così, numeri a caso. Poi esce Renzi poco fa e dice il Movimento 5 Stelle vuole spendere 60 miliardi di euro. In realtà loro non hanno mai individuato una copertura economica per le proposte che facevano, incluso il reddito di dignità di Berlusconi. Noi, proprio perché tutti per anni ci hanno detto dove andate a prendere i soldi, non solo abbiamo individuato tutte le coperture reddito di cittadinanza. Ma il nostro programma elettorale avrà tutte le coperture, sarà l'unico programma elettorale, mi gioco quello che volete, che metterà tutte le voci di spesa e quindi vi spiegherà dove andremo a prendere i soldi per cambiare questo paese. Io invito i cittadini a diffidare dalle imitazioni perché Berlusconi ormai è una fotocopiatrice impazzita, ha cominciato a copiare tutto quello che poteva copiare da noi perché evidentemente ha capito che il nostro programma è un programma che risponde alle esigenze degli italiani. Peccato che se veramente voleva fare il reddito di dignità, il reddito di cittadinanza, poteva votarlo in Parlamento in questi anni, aveva avuto la possibilità come Forza Italia di votare la nostra proposta e di portarla avanti. È stata bloccata in Commissione Lavoro per anni dal suo partito e dal Partito Democratico. Perché? Perché non potevano permettere che si facesse una legge così importante a prima firma Nunzia Catalfo, senatrice del Movimento 5 Stelle. E allora diffidiamo dalle imitazioni, soprattutto in campagna elettorale, diffidiamo dalla fotocopiatrice impazzita che è Berlusconi, diffidiamo da un uomo che oggi ha un partito del 15% e giustamente prova a copiare le proposte del Movimento 5 Stelle che è al 30%, al doppio del suo partito. Ma queste sono solo delle strumentalizzazioni. Perché sappiamo bene che prima delle elezioni tutti, anche nel 2013, io me li ricordo questi qua, non prenderemo i rimborsi elettorali, taglieremo i vitalizi, dimezzeremo gli stipendi, ci avevano copiato tutto, poi il giorno dopo quando li abbiamo messi alla prova ci hanno votato contro. E così sarà anche per questa campagna elettorale. Comunque io un invito lo mando a Berlusconi. Prima di tutto, benvenuto. Mi ci fa piacere che abbia scoperto lo strumento del reddito di cittadinanza e abbia scoperto anche che non è uno strumento assistenzialista, ma serve ad aiutare le persone e a far crescere l'economia. Ma gli dico anche, se veramente fa sul serio, allora dal 4 marzo in poi una delle prime leggi che presenteremo come forza di governo del Paese sarà proprio quella sul reddito di cittadinanza. Ce la voti, abbiamo già tutte le coperture e quindi dimostri che quello che ha annunciato in campagna elettorale non è la solita butada alla Berlusconi, ma forse per la prima volta è una cosa seria che vuole fare. Noi lo invitiamo a votare le nostre proposte perché sicuramente ne avrà l'occasione. Non in questa legislatura perché tra qualche giorno si sciolgono le camere, ma nella futura. A proposito del scioglimento delle camere voglio dirvi un'ultima cosa. Questa legislatura finisce finalmente, dopo 5 anni, con una notizia per le famiglie italiane che di certo non è buona. Più 956 euro all'anno di tasse in più da pagare nel 2018. Cioè rispetto al 2017 gli italiani pagheranno 956 euro di tasse in più nel 2018. Questo è inaccettabile in un Paese in cui ci sono 50 miliardi di euro di sprechi nel bilancio dello Stato, in un Paese in cui si sono spesi 20 miliardi di euro per le banche per salvare i banchieri e non i risparmiatori, in un Paese in cui si sprecano ancora decine di miliardi di euro in spese inutili. È il momento di scegliere da che parte stare. Lo dico ai cittadini italiani. Il 4 marzo si decide. Possiamo continuare a votare questi partiti ormai defunti, che però poi quando vincono dimostrano di essere quelli che sono sempre stati. Pensate in Sicilia che cosa sta succedendo. Micichè, eletto presidente dell'Assemblea regionale siciliana, ha dichiarato due cose. Non taglierò gli stipendi ai deputati regionali, aumenterò il tetto degli stipendi ai funzionari pubblici. Questo è quello che vogliono fare, che continueranno a fare. Continuare a sprecare i vostri soldi oppure votare per noi. Qual è la garanzia? Noi saremo sicuramente un movimento che avrà fatto degli errori, ma l'abbiamo sempre fatto in buona fede. Ma avete una garanzia che prima di parlare noi i fatti li abbiamo portati a termine. Noi siamo stati quelli che hanno rinunciato al vitalizio, si sono tagliati gli stipendi e hanno rinunciato ai rimborsi elettorali. Ma soprattutto non c'è un solo comune 5 Stelle che ha aumentato il suo debito pubblico in questi anni. Tutti i comuni governati dal Movimento 5 Stelle hanno ridotto il debito pubblico. Questo significa che noi stiamo attraverso il taglio degli sprechi, abbattendo il debito e liberando gli spazi economici per poter abbassare le tasse. ed è questo che vogliamo fare anche una volta al governo del Paese. Sì, cosa succede in Lombardia? Abbiamo scoperto, in realtà non l'abbiamo scoperto, ma stamattina abbiamo visto con i nostri occhi la realtà anche milanese. Spesso ci sentiamo raccontare che in Lombardia si sta bene, che non ci sono problemi, che la disoccupazione non c'è e siamo andati invece a visitare una realtà che ci dice che negli ultimi 5-6 anni il trend degli italiani che accedono e che quindi hanno bisogno degli alimenti, della prima necessità è aumentato e sta aumentando e sta superando quello a cui siamo abituati a pensare, che è quello legato soprattutto agli immigrati e agli extracomunitari. Questo vuol dire che le politiche di Maroni a livello sociale non hanno funzionato. Noi tre anni fa sull'onda anche dalla nostra proposta nazionale abbiamo presentato un reddito di cittadinanza a livello regionale. Maroni in preda al panico ha provato a copiarlo, quello che sta facendo Berlusconi che è sul sodale da sempre e ha fatto questo reddito di autonomia. Stamattina siamo andati a vedere che il trend in crescita dei poveri, soprattutto a Milano, degli emarginati, di quelli che stanno fuori dalle reti sociali ci fa dire con certezza che quel reddito di autonomia era un blef. Non ci sono stati soldi, sono state poche politiche, molto annunciate e poco fatte e quindi sostanzialmente la credibilità del centrodestra di Lombardia a sostegno degli emarginati, dei più poveri non esiste. Noi abbiamo una proposta strutturata anche a livello regionale, se arriva quella nazionale benvenga e utilizzeremo quei fondi per fare altro, ma sicuramente la nostra misura andava a sostegno degli ultimi, alla riqualificazione professionale perché se è vero che in Lombardia il problema del lavoro è minore rispetto ad altri territori abbiamo un problema, e questo lo stiamo certificando in questi giorni, di riqualificazione professionale di alti profili che le aziende ricercano e quindi abbiamo una forte necessità di sostenere le nostre aziende formando le persone e ridandogli la dignità attraverso il lavoro. Questo in Lombardia non viene fatto perché il sistema dote che Maroni dice che ci copiano nel resto nelle altre regioni d'Italia è un sistema che aiuta più i centri di formazione e le agenzie interinali che le persone. Abbiamo visto spesso dei profili, magari degli operai in uscita al mondo del lavoro a cui veniva fatto un corso d'inglese perché serviva a riempire il corso d'inglese, non perché serviva a quel profilo professionale o all'azienda. E noi questo sistema lo possiamo superare solo sostenendo i nostri centri per l'impiego che sono anche di competenza regionale, che la regione in questi anni ha smantellato in favore del sistema di lavoro di somministrazione, sostenendo le aziende e i centri di formazione. Noi dobbiamo sostenere invece i lavoratori, qualificare i lavoratori che poi daranno un sostegno alle aziende e permetteranno alle aziende di crescere ulteriormente, di creare posti di lavoro, di creare gettito e perché no finanziare anche di misure di solidarietà che permettano ad associazioni come Paranel Quotidiano di chiudere, perché la richiesta che è arrivata al Presidente è il loro sogno, non è quella di continuare ad ingrandirsi e avere sempre numeri in più come un'azienda normale. Loro dicono che aiutiamo gli ultimi e se continuiamo ad aiutarne sempre di più vuol dire che la situazione sta peggiorando. Il nostro obiettivo è di arrivare a chiudere. Loro hanno 120 anni di storia e ci dicono però che negli ultimi dieci anni stanno vedendo una situazione che non hanno mai visto. Quindi vuol dire che quelli che erano giudicati gli incompetenti, gli incapaci, quelli che non sapevano nulla di politica, in realtà già quattro anni fa, appena entrati in istituzioni, hanno individuato una misura e delle necessità del Paese e oggi stanno arrivando tutti rincorsa. Il problema è la credibilità delle persone che propongono questo. Dicevo Maroni ha proposto reddito di autonomia che non ha dato risposte, è chiaro che Berlusconi propone reddito di dignità che non dà risposte. Danno numeri a caso, hanno dato noi colpe sui numeri che non avevamo coperture quando invece loro danno dei numeri completamente a caso. Abbiamo un'idea chiara, dare dignità alle persone dando un sostegno al reddito e metterle in condizione di tornare a lavorare riqualificandosi verso i lavori che sono i lavori del futuro e il mercato del lavoro richiederà nel futuro. Quindi questo è il nostro obiettivo e noi siamo convinti di essere gli unici ad avere una credibilità perché lo portiamo avanti da tempo. Non ve lo stiamo proponendo a un mese o due dalle elezioni, ma è una cosa su cui abbiamo puntato da tempo, ma non perché dà un ritorno elettorale, ma perché serve al Paese, serve alle persone e l'abbiamo visto davvero stamattina con i nostri occhi e lo vedremo anche nei prossimi giorni visitando le aziende. Quindi da un lato sosteniamo la piccola e media impresa e non solo le multinazionali e dall'altro però dobbiamo dare dignità alle persone che spesso hanno lavorato per tanti anni, hanno reso grande questo Paese e oggi in un momento di difficoltà si trovano le istituzioni che gli girano le spalle. Noi invece vogliamo essere quelle istituzioni che li guardano negli occhi, li prendono per mano e li accompagnano e le riintroducono con dignità all'interno del mondo del lavoro. E infatti per concludere dobbiamo solo essere orgogliosi di quello che abbiamo proposto in questi anni perché i nodi vengono sempre al pettine. Io mi ricordo come è nato questo reddito, da voi si chiama reddito di autonomia, no? Perché gli hanno cambiato il nome. E' nato nel 2015 quando noi a gennaio del 2015 lanciamo la campagna sul reddito di cittadinanza a livello nazionale alcuni governatori delle regioni cominciano a copiarci. Allora in Puglia nasce un reddito di inclusione, in Lombardia il reddito di autonomia, in Friuli il reddito di dignità. Cominciano a scimmiottare quella cosa. Ora io ero contento del fatto che le regioni si stavano muovendo per istituire degli strumenti di sostegno al reddito. Il problema è che sono stati dei blef, come dicevi tu, perché se ci avessero copiato bene, noi eravamo contenti del fatto che avevano istituito uno strumento di sostegno al reddito. Invece le regioni sono andate in ordine sparso. A livello nazionale hanno creato uno strumento, il REI, che sostanzialmente non fa altro che prendere i soldi che si davano già ai poveri, ed erano pochi, e li si dà sotto altra forma di finanziamento. Ma sempre gli stessi soldi, solo non ci sono risorse fresche. Il problema è che il Paese continua a vedere aumentare il numero di poveri. Siamo arrivati a 10,5 milioni. Quindi è il momento di intervenire. Spero che da Presidente della regione Lombardia tu non dovrai intervenire con uno strumento del genere, perché lo faremo a livello nazionale direttamente, in modo tale da evitare anche sovrapposizioni tra regioni e tra livelli regionali e livelli nazionali, utilizzare uno strumento di sostegno al reddito che non permetta alle persone di avere un reddito per starsene a casa. A parte i pensionati che hanno diritto al loro riposo dopo una vita di lavoro. Ma il reddito che si dà a persone in età da lavoro è un reddito che ti impone di formarti, di riqualificarti lavorativamente, di accettare le proposte di lavoro che ti vengono fatte dallo Stato. Ciao a tutti e continuate a seguire il nostro rally. Ciao!